I bambini della seconda A delle scuole elementari dell'Istituto Paritario San Giuseppe sono in cortile per svolgere un'attività particolare organizzata dal Colle per la famiglia dell'Opera Don Calabria. È l'occasione per mettere in contatto le generazioni e per condividere i saperi per una scuola che valorizza le radici e i racconti di epoche precedenti e per imparare attraverso il gioco comportamenti utili per la vita quotidiana. Che si stanno con i nonni e sanno tante cose. Ha imparato che cosa da loro? Che l'amicizia è fondamentale per stare bene con gli altri. Questo progetto ha proprio come obiettivo la valorizzazione del legame fra le generazioni. I nonni hanno un ruolo fondamentale per i bambini soprattutto in questa epoca di grande fragilità e cambiamenti e precarietà. In questi momenti dove le geografie familiari continuano a cambiare, sono sempre in movimento. I nonni rappresentano le radici, il punto di riferimento per questi nipoti in un mondo dove tutto è in continuo cambiamento. Questa mattina i bambini si sono messi nei panni dei cavalli mediatori relazionali in ascolto attento dei consigli dei nonni che spiegano loro come raggiungere determinati obiettivi. Nonna Cristina, di questa attività con i bambini cosa le è piaciuto? Mi è piaciuto un po' tutto ma soprattutto vedere questi bambini così interessati, le novità è una cosa eccezionale, è un regalo che fanno a noi, non noi a loro, nel nostro tempo. Che possiamo incontrare nuove persone molto sagge. È un progetto che ha intanto ideato dalla nostra associazione che è il Colle per la Famiglia dell'Opera Don Calabria, supportato dal Comune di Verona, l'assessorato all'istruzione, l'assessore Maellare, da Fiera Cavalli con Diego Armando Di Ruzza, dalla terza circostruzione e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore che si occupa della supervisione delle equip che si occupano del progetto e della parte di ricerca. Attraverso il cavallo noi possiamo capire come mettersi in relazione anche con le persone. Abbiamo ideato delle attività che abbiamo proposto nelle scuole che aderiscono al progetto, dell'IC6, IC13, la scuola San Giuseppe dove siamo oggi, dove lavorare sulle emozioni, la fiducia e l'autorevolezza.